Perché non vanno in onda Uomini e Donne e il segreto oggi 25 e 4 Questa settimana cambia la programmazione di Uomini e Donne, il celebre People Show che va in onda ogni pomeriggio su Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Se si dà unocchiata al palinsesto Mediaset odierno si scopre che questa seguitissima trasmissione non figura nel palinsesto. Ma perché Uomini e Donne non va in onda oggi 25 aprile 2018? Andiamo subito a scoprirlo. Salta la puntata di Uomini e Donne del 25 aprile. Oggi sarebbe dovuta andare in onda la puntata del Trono Over con Gemma Galgani e Giorgio Manetti. I vertici di Canale 5 hanno preferito sospendere la trasmissione della De Filippi solamente per questa giornata. Oggi, infatti, è la festa della liberazione d'Italia. Ma sono stati sospesi tanti altri programmi, oltre a Uomini e Donne. Non ci saranno, infatti, le puntate di Beautiful, Una vita e il segreto, oltre a Pomeriggio 5 e Amici di Maria. Il Dating Show e le Sop Opera torneranno regolarmente in onda da giovedì 26 aprile con nuove puntate. Anche la trasmissione di Barbara D'Urso e Amici torneranno a deliziare i pomeriggi degli italiani. Al loro posto, questo pomeriggio andranno in onda due film. Vedremo baciami ancora, dalle 13.40 alle 16.30 circa, successivamente verrà trasmesso il solito spezzone del grande fratello Evo. Infine, un film di Rosamund e Pilcher dal titolo Un mistero dal passato, fino alle ore 18.45, quando vedremo Jerry Scotti nel Gammelshow Caduta Libera. Anticipazioni Uomini e Donne e Il segreto 26-27 aprile. Stando alle anticipazioni ufficiali di Uomini e Donne, le puntate del 26 e del 27 aprile saranno incentrate sul trono over. Ancora una volta, la protagonista indiscussa sarà la dama torinese che ha scatenato numerose discussioni sul social a causa del bacio scambiato con il suo ex Giorgio Manetti nello studio del Maurizio Costanzo Show. Un gesto a dir poco clamoroso visto che Gemma, tempo fa, aveva affermato di aver chiuso con Giorgio. Per quanto riguarda il segreto, la SOP Iberica proseguirà con le avventure degli abitanti di Puente Viegio da giovedì 26 aprile. Prudencio rasserenerà il fratello Saul e gli prometterà di indagare sul passato dell'amata Giulietta Oriarte. Scoprirà chi è il padre di Ana e come mai madre e figlia hanno vagabondato prima di fermarsi nel loro villaggio. Aquilino organizzerà una romantica fuga a Parigi con Beatriz. Quest'ultima racconterà una bugia a Camila e Hernando per giustificare il suo viaggio. Quest'ultima racconterà. Qualcali con组? Questa è una nuca. E' molto complesso chiara. Quest'ultima racconterà. Quest'ultima racconterà. Grazie a tutti.